Buongiorno, scusate il ritardo di qualche minuto. Sono Stefania Mascetti della redazione di Internazionale, grazie a tutti voi per essere qui a questo incontro, la scrittura al tempo della violenza. Sono qui per parlare di Palestina, Sri Lanka e Africa, Suad Amiri, scrittrice palestinese, molto conosciuta soprattutto per Sharon e mia suocera, ma anche adesso Murad Murad, Ramesh Kusenekera dello Sri Lanka, Abdurahman Waberi, scrittore del Djibouti. Quindi insieme ci racconteranno, moderati dal prezioso aiuto di Mariana Dotti, scrittrice, curatore di molti libri, l'anno scorso abbiamo presentato insieme proprio sulla Palestina, atto di Stato, storia fotografica dell'occupazione. Faremo una geografia della letteratura in tempo di guerra. Grazie. Grazie. Allora, i nostri tre ospiti di oggi vengono da tre paesi del mondo, lontani, lontani da noi, lontani tra di loro, che hanno però in comune tra di loro alcune cose e di questo parleremo parlando di scrittura. I nostri ospiti sono Suad Amiri, palestinese, palestinese potremmo dire di Jaffa, tranne che l'avevano già mandata via la sua famiglia quando lei è nata, per cui è nata a Damasco, e però con un atto di arditezza politica è tornata a vivere nei territori occupati di Palestina Aramalla ormai da parecchi anni e di questo scrive e scrive, e scrive, e fa bene a scrivere. E noi faremo bene a leggere. Il suo ultimo romanzo è Murad Murad, di cui parleremo a un certo punto, perché io, siccome bisogna scegliere nella vita, ho deciso di concentrarmi con loro su tre dei suoi lavori, dei loro lavori, non su tutti. Quindi, Suad Amiri oggi sarà in particolare Murad Murad. Poi Romesh Bunezekera, che io ho conosciuto in questi giorni con grandissimo piacere, l'ho conosciuto leggendo un suo libro, secondo me importantissimo, che si chiama Riff, tradotto anche in italiano, purtroppo introvabile. Per cui, dopo questo incontro di oggi, vi prego di mandare lettere, email, all'editore italiano di Bunezekera, perché ci rimettano a disposizione la traduzione italiana di questo formidabile romanzo. Ne ha scritti molti altri, uno solo, oltre a questo è stato tradotto in italiano, anche questo è introvabile, Misteri dell'editoria, e tra l'altro lo stesso editore di Suad Amiri Feltrinelli, per cui faremo una mozione, ne parleremo. E il terzo è dello Sri Lanka, Romesh Bunezekera. Quindi, dall'altra parte, passiamo dal vicino oriente all'estremo oriente, e poi invece abbiamo un po' d'Africa. E' Abdurrahman Waberi, che nasce nello stato di Djibouti. Djibouti, che è un pezzetto piccolo piccolo del corno d'Africa, intorno ci sono Eritrea, Somalia, Etiopia, mare, Mar Rosso, e dall'altra parte, proprio dall'altra parte, ci si vede, credo, lo Yemen. Io vorrei, ho fatto una piccola ricerca, ma poi passiamo la parola immediatamente a loro, scusate, il libro di Waberi, su cui io vorrei particolarmente fermarmi oggi, si intitola Stati Uniti d'Africa. E già dal titolo, United States of Africa, già dal titolo si capisce che Waberi ha scelto un modo particolare di raccontare e di scrivere. Una cosa a cui tengo molto, perché appunto siamo in un festival che si occupa di racconto di realtà, di giornalismo, di cronismo, di reportage, di lavori di inchiesta. In questo caso, oggi, siamo in presenza di due scrittori, due romanzieri, Cunesechera e Waberi, e di quella che continua ad autodefinirsi, ormai dovrebbe smetterla, ma continua a definirsi una scrittrice per caso, un accidental writer, perché Suada Amiri in realtà è un'architetta, e poi ci racconterà lei come mai è arrivata la scrittura romanzesca e perché continua a considerarsi un accidental writer. Allora, partiamo però dalla geografia, perché non è assolutamente detto che appunto tutti quanti sappiamo di cosa parliamo quando parliamo di Palestina, Sri Lanka, Djibouti. Allora, tre dati e poi passo la parola ai nostri ospiti. Quando parliamo di territori occupati di Palestina, ovviamente parliamo oggi di Gaza e quella che viene chiamata Cisgiordania, e già questo nome dovrebbe farci pensare. Gaza è una stretta fascia costiera, strettissima, la cui ampiezza varia dai 6 ai 14 chilometri e si estende per 40 chilometri in larghezza. La sua superficie complessiva è di 378 chilometri quadrati. In questi 378 chilometri quadrati abita 1.537.000 erotti di abitanti, vale a dire 4.270 abitanti per chilometro quadrato. La Cisgiordania, che è l'altro pezzetto di Palestina, che non tocca Gaza come sapete, come sappiamo, ha una superficie di circa 6.000 chilometri quadrati. In questi 6.000 chilometri quadrati non si riesce a definire l'ampiezza della Cisgiordania perché non ci sono i confini. No. Però sappiamo che oggi in questa terra un po' volatile, che continua a restringersi, dentro e fuori, abitano circa 2 milioni e mezzo di palestinesi e circa 500.000 israeliani ebrei, i coloni. Quindi il calcolo demografico fatto da soli, su circa 6.000 chilometri quadrati ci sono 3 milioni di persone, di cui un sesto israeliani ebrei, out of place, fuori posto, diciamo, non a casa loro. Djibouti, corno d'Africa, 23.000 chilometri quadrati, 496.000 erotti abitanti, per cui 21 abitanti per chilometro quadrato. Sri Lanka, che è l'isola a sud dell'India, 65.610 chilometri quadrati, 20.743.000 abitanti, quindi 316 abitanti per chilometri quadrati. Adesso passo a voi, passo a voi con questa prima domanda. Tra l'altro Gunesekera non abita in Sri Lanka, abita a Londra e Waberi non abita in Djibouti, abita a Parigi, negli Stati Uniti, viaggia. Suada Amiri ha scelto e riesce a vivere a Ramallah, anche se tra un po' verrà a vivere a Napoli definitivamente, perché è la sua casa alternativa. Allora, io vorrei chiedere a loro di raccontarci meglio di quello che ho fatto io, la geografia dei loro paesi d'origine e il rapporto che la loro scrittura ha con la geografia. Buongiorno a tutti, sono molto felice per essere qui, non parlo italiano bene, ogni libro io dico speriamo, posso presentare il mio libro in italiano, ma non posso, cambia in inglese. Grazie, sono felicissima di essere qui, vorrei ringraziare gli organizzatori per averci dato l'opportunità di essere qui. Parliamo della Palestina, allora sapete che la Palestina è un paese che si restringe sempre di più. All'inizio del secolo la Palestina era quattro volte più grande rispetto a quanto non sia ora. Per quanto riguarda la Palestina non c'è nulla di particolare, spazio e tempo hanno lo stesso significato in Palestina e altrove nel pianeta. Quello che intendo con questa frase è che se esco di casa per andare a Gerusalemme, che dista soltanto 15 chilometri da Ramallah, in un posto normale come Ferrara, si farebbe il seguente pensiero, 15 chilometri ci metterò 15 minuti, ma in Palestina è completamente diverso perché quando si esce i 15 chilometri tra Ramallah e Gerusalemme potrebbero richiedere 15 minuti per la percorrenza, due ore, una giornata intera, forse non ci si arriverà mai oppure se ci si dovesse arrivare non si tornerebbe mai indietro. Quindi in realtà il concetto di spazio come risultato dell'occupazione della Palestina, per darvi un'idea, la Cisgiordania è la dimensione dell'isola d'Elba, quindi immaginate la sua grandezza. Ci sono 500 checkpoint che non separano la Palestina da Israele, ma la Palestina dalla Palestina fondamentalmente. Quindi quando si parla di geografia, se guardiamo la cartina della Palestina, sembra veramente il formaggio Emmental, piena di buchi, in considerazione del controllo che Israele ha sulla Palestina. Quindi Maria mi ha chiesto di parlare della geografia della Palestina e diciamo che la Palestina è un paese arabo, si presume faccia parte di una cultura araba, ma in conseguenza dell'occupazione non possiamo raggiungere alcun paese arabo. Quindi una cosa che va detta in relazione all'occupazione, perché la maggior parte dei media al mondo sono interessati ai bombardamenti o ai kamikaze, agli attacchi perpetrati da questi ultimi, a Abu Mazet, a Yasser Arafat, nessuno è realmente interessato ai 3,5 milioni di persone che vivono sotto l'occupazione e l'occupazione per me significa che lo spazio e il tempo continuano a cambiare davanti a noi e voglio dire che vivo in un paese, sono un architetto, come è già stato detto, e quindi come ha già detto Maria, e poi vi spiegherò perché, mi ritengo una scrittrice per caso, ma sono diventata un architetto perché ho visto la costruzione del muro, ho visto la costruzione delle strade, ho visto come lo scenario davanti a me cambiava costantemente, credo che tutti voi abbiate visto il film Nuovo Cinema Paradiso, dove tutto il paese rimane sconvolto dalla demolizione dell'edificio del Nuovo Cinema Paradiso. La Palestina è un intero Nuovo Cinema Paradiso, perché ogni giorno esco da casa e non so quale strada prenderò e non so come si presenterà il paesaggio davanti a me e mi fermerò qui. Grazie. Buongiorno, mi scuso ma parlerò in inglese perché non parlo in italiano. Maria mi ha chiesto di parlare un po' della geografia dello Sri Lanka. Vorrei cominciare chiedendovi per alzate di mano, quanti di voi sanno dov'è lo Sri Lanka? Allora, vedo tante alzate di mano, per cui forse non c'è nulla di più che posso aggiungere, perché se non avesse saputo dov'era, vi avrei potuto spiegare forse che si trovava al centro dell'universo, perché è un po' quello che tendono a pensare un po' tutti, tendono a credere sempre di essere al centro dell'universo. Bene, lo Sri Lanka invece sappiamo che è un'isola, come tutti sapete che si trova in una zona sotto l'India. Lo Sri Lanka è un po' una specie di goccia di sangue che cade dal naso dell'India, come è stato detto da uno scrittore che non è stato mai perdonato per questa espressione. Si tratta di una nazione abbastanza piccola, della stessa grandezza dell'Australia, più o meno, per quanto riguarda la popolazione. Ovviamente da un punto di vista fisico è molto più piccola, è più o meno della grandezza del cuore dell'Inghilterra, della parte centrale. Ecco, parlando dell'Italia, l'Italia spesso la vediamo come una specie di stivale e lo Sri Lanka invece la possiamo vedere un po' come l'anima, la parte centrale dell'Italia. Si tratta tra l'altro di una nazione che sta diminuendo per un certo numero di nazioni, perché a volte ci sono delle migrazioni, le persone appunto la lasciano, questa terra c'è anche una erosione naturale per via appunto di svariati cataclismi naturali, tra cui anche gli tsunami che sfortunatamente hanno luogo in questa zona. Si tratta di un'isola protetta da una barriera corallina che però sfortunatamente nel corso del tempo si è deteriorata. Infatti quando ho scritto il mio primo libro, Barriera Corallina, sapevo molto poco della barriera corallina e del fatto che appunto esistessero in natura proprio a fini protettivi. E però ecco, quel concetto è diventato molto importante nella scrittura di quel libro e nella scrittura in generale. E quando appunto ci si chiede quale sia il collegamento tra la geografia da un lato e l'immaginazione dall'altro, io ritengo che senza dubbio il legame sia dovuto proprio al fatto che il mondo naturale sopravvive e un po' nello stesso modo in cui sopravvive alla barriera corallina. Il collegamento quindi è tra qualcosa di solido e di protettivo e di qualcosa invece di molto delicato e vivo e quindi il legame tra l'immaginazione e la memoria. L'immaginazione è molto fragile, molto delicata, però è essenziale nella vita di noi tutti e la memoria invece è un qualcosa che si accumula nel corso del tempo che però può stratificarsi e può diventare quasi una specie di peso morto, come viene nel caso della storia. Quindi io ritengo appunto che il legame tra la finzione, tra la scrittura immaginativa e la realtà è un po' dello stesso tipo. L'immaginazione, la fiction vive un po' al di fuori del mondo ma ha delle collegamenti peculiari con il mondo nel quale appunto nasce. Come appunto alcuni elementi che esistono in altre parti della nostra terra. Bene, parliamo invece ora del GBU. Ecco, comunque la cosa interessante che volevo dire era appunto questo elemento geografico di cui parlava proprio la persona che ha introdotto questa discussione. Il mondo nel XV secolo era molto misterioso, non ci sapeva dove si trovavano le varie zone del mondo e ora invece le cose sono cambiate e sappiamo bene appunto dove sono collocati tutti gli elementi geografici. Buongiorno, sono molto lieto di essere qui, grazie all'Internazionale questa rivista così interessante che voi tutti conoscete. Vorrei ringraziare Nielsen e i nostri amici per averci consentito di essere qui quest'oggi. Ed è un grande piacere essere con Romesh ed Amiri qui quest'oggi, alcuni dei quali ho già conosciuto in passato. Parlando di geografia, certo la geografia è un qualcosa nella quale appunto ciascuno dovrebbe conoscere il proprio vicino, però come ti ha detto Romesh ci siamo sempre più avvicinando a delle epoche, delle epoche della geografia, nel quale appunto siamo tutti quanti più o meno collegati gli uni agli altri e nonostante ciò però siamo divisi, siamo divisi per via della natura e la natura sta quasi diciamo così acquistando un certo grado di potenza. Gli oceani ci dividono, i fiumi ci dividono e quindi dobbiamo cercare di utilizzare quegli strumenti che ci danno l'immaginazione e la cultura per poterci ricollegare gli uni agli altri. Siamo in una specie di terra incognita, un po' come la Palestina, il Djibouti, lo Sri Lanka, come si diceva nell'Italia del Rinascimento. Ecco, io ritengo appunto che l'Itea dietro questa nuova idea di questa scoperta sia possibile appunto tramite persone quali quelli che si occupano di internazionale. Bene, parliamo di Djibouti. Djibouti è forse una nazione che non tutti conoscono, non so se sapete esattamente dove sia collocata. Si tratta di una nazione di origine francese, una colonia francese che precedentemente faceva parte dell'Abissinia per alcuni, ma per altri invece non lo è. bene, il Djibouti è senza dubbio interessante perché è al tempo stesso africana da una parte, ma al tempo stesso parte anche del mondo musulmano, nel mondo arabo. Lo Yemen si trova molto vicino, a 15 miglia di distanza, per cui si trova molto collegata al mondo arabo. Si tratta di una nazione di lingua francese, anche se sto parlando invece quest'oggi in lingua inglese. francese. È della grandezza più o meno dello Stato del Massachusetts negli Stati Uniti, o più o meno della grandezza del Belgio, con nemmeno un milione di persone, la maggior parte dei quali parlano i somali e gli altri un'altra lingua molto simile, la FAR. Bene, il mio lavoro forse è da una parte fornire il punto di vista delle nazioni più piccole rispetto a quelle più grandi esistenti nel mondo. E il fatto che i Djibouti possano essere identificati all'interno di una mappa, all'interno del mondo, può essere senza dubbio molto interessante. L'immaginazione senza dubbio è un elemento molto importante, che ha luogo un po' ovunque dove ci sono esseri umani e che senza dubbio è molto importante nel caso di scrittori di nazioni più piccole. Ebbene, uno dei primi Nobel abbastanza recenti, Derek Qual di San Lucia, San Lucia è un luogo che pochi conoscono, era uno dei migliori scrittori della lingua inglese e nonostante ciò proveniva da una nazione così piccola. Djibouti a volte viene definito un po' come il fondo schiena del diavolo, un'espressione che non piace a molti djiboutiani. I djiboutiani ovviamente vogliono che del Djibouti si parli in maniera positiva, infatti io sono stato un po' l'ambasciatore del Djibouti in ambiti letterari, proprio perché mi si chiedeva di proteggere la voce dell'Africa. E io invece dicevo che no, in fondo proveniamo da luoghi piccoli, da luoghi non così tanto interessanti e così via. Ovviamente era ironico. non dobbiamo dire che siamo, non so, palestinesi e quindi siamo i migliori, senza dubbio. La Palestina si può considerare al centro del mondo come lo si può considerare anche il Djibouti. quindi la sfida ritengo che sia di presentarsi con lo stesso grado di interesse di chiunque altro all'interno del mondo. A partire da alcune delle cose che avete detto in questa prima risposta andrei avanti. Dunque in particolare Romesh e Suad ma anche Abdu Maravan. Avete parlato di questi paesi piccoli e che diventano sempre più piccoli. Per erosione politica, nel caso della Palestina, per erosione anche fisica, geografica, nel caso dello Sri Lanka. Migrazioni. La mia domanda è, le migrazioni rimpiccioliscono un paese ma in qualche modo lo ingrandiscono. Lo moltiplicano, lo espandono. Io cosa saprei, io italiana, cosa saprei dello Sri Lanka se non ci fossero delle voci precise di immigrati o di fuoriusciti, non so, se non ci fossero i grandi romanzi appunto di Michael Ondaggi, i tuoi. Cosa saprei della Palestina se non avessi un interesse specifico per... non possiamo dare per scontato che ci sia un interesse politico per tutti i paesi del mondo. Quindi le migrazioni producono anche degli allargamenti. Ma la mia domanda, a partire da questo presupposto, è scrivere del proprio paese, da fuori o da dentro. Romesh parlava di due forze in azione quando si è fuori dal proprio paese. Parlava di immaginazione e di memoria. Suad è dentro al paese, però spesso scrive da fuori, scrive da Napoli, da Procida in particolare. E Waveri, credo, scriva da fuori, quasi sempre. Allora la mia domanda è proprio questa. Che cosa succede quando si scrive di un proprio paese da lontano, che è un lontano spaziale ma è anche un lontano della memoria? Cosa si sa del proprio paese dopo trent'anni che non ci si abita più? E che cosa invece voglia dire scrivere del proprio paese standoci nella quotidianità? La domanda naturalmente ha a che vedere con la forma della scrittura. Infatti, Suad, che sta nel suo paese, fa delle cronache quotidiane. È come un diario quello che tiene Suad. Parla di quelle cose che si sanno solo se si abita lì. Mentre Romesh e Abdurrahman parlano usando molto la forza dell'evocazione, io credo. Ecco, se mi poteste rispondere nell'ordine che volete a queste cose, non è necessario ripartire da Suad, eh? Comincio io. Domanda un pochino difficile. Poi Abdurrahman ha citato qualcosa che volevo dire anche io, quindi mi ha rubato un pochino la scena. Cerchiamo di prendere la via più semplice. Credo che l'effetto di altre persone sulla propria scrittura, molto semplicemente, sia molto interessante. Il concetto che se si scrive, si deve scrivere di quello che si conosce o da dove si viene e presentare tutto questo bene, come ha detto Abdurrahman, presentare l'idea del proprio paese come se fosse inondato da una luce positiva. Non è senz'altro qualcosa di strano per noi. L'anno scorso, o l'altro giorno, mi scuso, ho letto un libro di uno scrittore americano e gli scrittori americani hanno il piacere di scrivere delle cose buone dell'America e non in realtà delle cose che non sono più così positive. Il trash, come lo definisco io, che però nutre la letteratura. La domanda su come il nostro background possa influenzare la nostra scrittura è molto particolare. Mi ricordo chiaramente uno scrittore indiano, un mio amico, quando ho iniziato a scrivere, quando mi sono avvicinato al mondo della scrittura, forse ero già al secondo libro, che scriveva del... volevo dire che i miei libri comunque sono molto piccoli, riff, molto piccolo. Questo scrittore indiano, un mio amico, mi disse... Forse perché vengo da un'isoletta, ecco perché il mio libro è così piccolo. Non vi dico chi è questo scrittore, ma in quanto scrittore indiano, lui si sentiva proprio di dover scrivere di un continente. Ecco perché i suoi scritti erano altrettanto voluminosi. Comunque c'è un elemento di verità in questo che lui mi diceva, anche se non lo condivido pienamente. Come si fa a scrivere di un posto quando si è lontani da questo posto? Beh, per me non è un problema, perché in quanto scrittore di fiction non scrivo o non riferisco quello che realmente accade nel paese, ma percepisco qualcosa di diverso. E mi sento lì, non mi sento lontano dal mio paese. Ecco perché mi interessa molto il collegamento tra il mondo reale e il mondo della finzione. Chiunque legga romanzi di finzione, venga preso da questo romanzo, sa che c'è comunque un certo attrito tra queste due zone, la realtà e la finzione. Quello che è vero e quello che non è vero. Ecco perché si ama leggere i messaggi di finzione. Chi ama James Joyce si sente a Dublino, si sente camminare per le strade di Dublino. Si ferma dove si ferma il protagonista di James Joyce e magari non sono mai stati a Dublino. Quindi c'è un legame reale con la realtà, un legame che è molto interessante e che crea questa emozione quando si legge. Come ha detto Maria, sono divenuta una scrittrice grazie a Sharon e a mia suocera, perché come dicevo sono un architetto ed essere un architetto è una forma mentis e anche essere uno scrittore è una forma mentis. Questo è il mio quarto libro, Murad Murad, ma ancora non mi definisco una scrittrice, vi posso dire come vivo, posso dire quello che faccio. Nel caso della Palestina nuovamente il mio primo libro, Sharon e mia suocera, è stato il risultato del dovere ospitare mia suocera. Avevano 91 anni, quando ci fu un coprifuoco di 42 giorni, lei fu ospite a casa mia. Io dico sempre agli israeliani che vi perdonerei un giorno di coprifuoco, ma non gli perdonerei di avermi fatto sorbire mia suocera per tutti questi anni, perché 42 giorni erano 42 anni di coprifuoco con mia suocera in casa. Comunque, scherzi a parte, c'erano soldati israeliani fuori casa e mia suocera in casa, quindi una doppia occupazione di fatto. E chi ha seguito i telegiornali sapete che l'occupazione israeliana è già abbastanza per farci impazzire, ma avere la suocera in casa è ancora peggio. Quindi ogni giorno passavo le mie giornate in casa e raccontavo quello che succedeva in casa con mia madre e durante l'occupazione con mia suocera. Ad esempio, cosa voleva dire andare a fare la spesa nelle due ore di sospensione del coprifuoco? 82.000 persone che facevano la spesa tutte insieme, quindi veramente un manicomio. Non pensavo realmente di scrivere, scrivevo delle email a dei miei amici, chiedendo loro di non farle leggere a nessuno, perché erano anche un pochino acidine nei confronti di mia suocera. E poi mi sono resa conto che era una cattiveria ironica e franca soprattutto. Quindi il libro ha avuto successo grazie a questa franchezza. Quindi era un diario che non intendevo in realtà scrivere, poteva essere anche qualcosa di finzione, perché vivere nella Palestina è in realtà irreale con l'occupazione israeliana. A volte non sappiamo neanche dove inizia la realtà o cosa è la realtà, quando c'è la realtà. Quindi è vero che racconto le esperienze quotidiane, ma c'è una domanda che mi viene sempre chiesta. Ma è la verità quello che lei racconta? È quello che lei scrive realmente? Beh, io scrivo seriamente quello che può essere considerato finzione. Nel mio secondo libro, Niente sesso in città, e se siete curiosi di sapere quale città, sicuramente non è Ferrara né Napoli, ma è Ramallah. Beh, questo libro è stato il risultato della vittoria di Amasa alle elezioni, perché nella mia vita è stato un evento veramente drammatico, essere una donna attiva con l'OLP, che consideravo un movimento laico, che lavorava e puntava a sostenere anche le donne, in modo che potessimo veramente avere voce in capitolo. E vedere un partito religioso vincere le elezioni mi ha fatto riflettere. E mi sono domandata, ma chi sono? In che paese vivo? Che futuro abbiamo? E quindi ho capito che avevo passato 30 anni della mia vita cercando di trasmettere al mondo l'idea che i palestinesi erano persone normali. E poi all'elezione, quando Amasa ha vinto, tutto quanto avevo cercato di sostenere è stato confutato. Ho pensato che avrei vissuto probabilmente altri 30 anni, avrei passato questi 30 anni dicendo che gli arabi e i musulmani sono persone normali. E questo mi ha spinto a scrivere Niente sesso in città, che ovviamente è dedicato alle mie amiche. Volevo chiamarlo Palestina la menopausa, ma Feltrinelli non amava questa definizione, e quindi mi ha detto scelga un altro titolo. Comunque Niente sesso in città, e mi hanno detto va bene. Quindi questo libro riguarda la vita di una mia amica, una storia vera di come si diventa palestinesi. Non è un libro che parla delle donne palestinesi. Quando ho scritto quel libro mi sono resa conto che le mie amiche, il gruppo in menopausa con cui esco tutti i giorni, o una tunisina, o una marocchina, o un'ermena, o un'altra americana. Non c'erano palestinesi in questo gruppo, tranne me, mezza palestinese e mezza siriana. Ma avevamo una cosa in comune, la causa palestinese. La Palestina è una causa, piuttosto che un posto, un luogo, una geografia. E il mio ultimo libro derivava da una realtà dura, la realtà della costruzione di quel muro, quel muro di otto metri di cemento, che non è una cosa fisica, ma è un mostro vero e proprio, è un obrobrio. Se chiedessimo ai palestinesi di raccontare quali sono stati i tre eventi nella loro vita che sono stati fondamentali per la storia della palestina, direbbero nel 1948, quando si è stati cacciati dalla Palestina storica, che è diventata Israele, e la mia famiglia è stata una delle famiglie cacciate da Jaffa. Poi i checkpoint, che sono appunto 500, in un territorio piccolissimo, che ci impediscono di spostarci liberamente. E il terzo evento è stato il muro. Ed ecco perché ho scritto questo libro, Murad Murad. Il muro è una realtà. Cosa sarebbe successo, mi piace chiedere, se noi palestinesi o arabi avessimo costruito un muro intorno allo Stato ebraico, intorno a Israele. Come sarebbe stato percepito questo muro? Gli israeliani, che parlano ogni giorno della necessità di ristabilire la pace, hanno costruito questo muro, che li ha separati dai loro vicini futuri. E Murad, e come Sharon e mia suocera, mia suocera come dicevo aveva 91 anni, per me era un simbolo della resistenza. Non aveva importanza quello che Sharon faceva fuori di casa. Lei alle 7 voleva avere il latte in tavola, voleva pranzare a luna. Lei era proprio un simbolo della resistenza, voleva vivere una vita normale, malgrado tutto quanto stesse accadendo fuori dalle mura della nostra casa. Mi fermerò qui. Comunque vorrei solo dire che Murad, che è stato appunto il risultato della costruzione del muro, mi ha fatto pensare a come scrivere in relazione alla costruzione del muro. Ho pensato di scrivere del muro da un punto di vista animale, perché noi esseri umani siamo così egocentrici che la prima cosa che mi è venuta in mente è stato di costruire il muro dal punto di vista animale, cioè i milioni e mezzo di ulivi che sono stati danneggiati dalla costruzione di questo muro. Ho pensato a questo muro che ci impedisce di essere liberi, di passare da una parte all'altra. Murad, quindi, è entrato a far parte della mia vita un giorno. Murad era un ragazzo, 21 anni, che aveva passato gli ultimi sette anni della sua vita lavorando in Israele e si svegliò un giorno come i 200.000 palestinesi pendolari che avevano lavorato tutta la loro vita in Israele per sentirsi dire da Sharon non devono esserci più clandestini palestinesi che lavorano in Israele. E tutti, penso che sapete bene cosa si intende per immigrazione, il problema occupazionale, ma la Palestina è un palestinese che lavora in Israele e non può essere considerato un lavoratore clandestino nella sua patria. Grazie. Grazie Suad, questo è un esempio che un paese piccolo ma diviso può senz'altro produrre un artista meraviglioso come Suad Amiri o come è avvenuto per Ramesh Gunasekera, qualcosa che è mondiale in una situazione che però è veramente molto dura. Per quanto riguarda la realtà e la finzione è una questione molto complicata per quanto ci riguarda e credo che i confini tra la realtà e l'immaginazione siano piuttosto fuscati perché non possiamo fare qualcosa che sia effettivamente definito realistico. Spesso ne parlo con i miei studenti e se mi viene chiesto cos'è la realtà, se si va a Piazza Trento e si dice si vuole fare una ripresa ovviamente basta aspettare pochi minuti e vedere la differenza se si fa una ripresa a 10 minuti di distanza dall'altra magari le persone che erano lì presenti si sono spostate quindi la realtà è diversa, cambia, cambia in pochissimo tempo ed è difficilmente tracciabile quindi avendo scritto una decina di libri sul mio piccolo paese mi sono reso conto che non scrivo soltanto dal punto di vista realistico o dal punto di vista geopolitico che è uno dei temi che amo trattare mi piace scrivere qualcosa che vada più in profondità qualcosa, modesti a parte che possa rievocare il paese dell'immaginazione come lo amo chiamare noi abbiamo la storia, abbiamo la geografia abbiamo la geopolitica, abbiamo la mitologia quindi questa sovrapposizione geologica cerca di penetrare nella nostra scrittura e noi cerchiamo di frammentarla e tradurla nell'uso della lingua e nell'uso dell'immaginazione mi piace scrivere qualcosa che abbia a che fare sia con la realtà che con la mitologia o la storia ecco perché mi piace utilizzare delle congetture, delle invenzioni come ad esempio il titolo gli Stati Uniti d'Africa in realtà il titolo originale è in francese quindi c'è una piccola differenza nella traduzione perché letteralmente sarebbe negli Stati Uniti d'Africa e non negli Stati Uniti d'Africa comunque in questo libro appare chiaro che tutto può succedere che tutto è effettivamente successo e gli Stati Uniti d'Africa sono una realtà creata dall'immaginazione e dobbiamo partire da questo presupposto e immaginare quello che potrebbe succedere se ciò fosse vero da questo punto di vista si può invertire il mondo rispetto all'ordine attuale e produrre distanza ma anche una critica una critica sociale una critique sociale come mi piace definirla è creare azione anche azione politica al tempo stesso qualcosa che potrebbe essere scritto anche in Palestina immaginiamo che la Palestina di oggi sia la Palestina del 1848 o del 1948 cercando di sfruttare l'immaginazione dei nostri lettori partendo da uno scenario attuale quindi andare a ritroso ho scritto questo libro perché ero un africano in Europa forse un africano ormai naturalizzato europeo e quindi volevo realmente affrontare la questione di chi sono io chi sono in questo mondo immaginiamo tutti gli europei che magari non sono particolarmente benestanti e che devono devono magari migrare in Africa cosa succederebbe se lo scenario fosse completamente invertito una delle questioni fondamentali nel nostro paese è vedere le cose da un punto di vista diverso da quello che ho cercato di fare io ad esempio questo libro non è il mio ultimo libro perché ho un libro uscito un mese fa e in questo ultimo libro che ha ancora il titolo francese Le passaggi dell'arma il passaggio delle lacrime parlo del Djibouti però in un'epoca recente che ha vissuto due nuove prospettive due nuove tendenze una l'importanza dei colloqui islamici nella sfera pubblica e l'idea che spesso si ricollega al Qaeda a Bin Laden e la reinterpretazione dell'Islam per una nuova agenda politica e questo sta accadendo in Djibouti e l'altra tendenza l'altra prospettiva è l'idea che i paesi si stiano rimpicciolendo per Djibouti è molto importante il ruolo svolto da Dubai dal Golfo Persico e Djibouti in passato spesso interagiva molto con la Francia che era il nostro colonizzatore la Francia fa ancora parte della nostra vita abbiamo una cultura francofona ma abbiamo anche un legame con gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti hanno l'unica base militare africana proprio in Djibouti perché è una base di lancio per combattere il loro nemico di oggi ovvero l'Afghanistan questa è un'evoluzione recente dopo l'11 settembre il Djibouti è stato protagonista di questo poi c'è Dubai come dicevo che però ci sta facendo rimpicciolire come paese dal punto di vista socio-economico c'è questo nuovo scenario di cui parlo nel mio libro ma cerco anche di costruire una sorta di legame storico tra il Djibouti di oggi il regime di Vichy la Francia dell'epoca fascista Walter Benjamin il filosofo ebreo tedesco che negli anni 30 negli anni 40 viveva in Francia aveva avuto un certo rapporto con il Djibouti perché il Djibouti era una colonia rischiava di essere deportato in un'isoletta non lontana dal Djibouti quindi anche questo mi ha aiutato a creare nuove prospettive avere una sorta di mappatura della geografia di oggi che non ha soltanto a che fare con la geopolitica con la geografia ma ha a che fare anche con la storia e ovviamente con l'affinzione e non soltanto il reportage vero e proprio non so se mi sono spiegato bene vorrei aggiungere qualcosa allora anche per quanto riguarda la fiction in quanto lettori abbiamo comunque questa percezione di ricevere delle notizie da qualche parte e anche quando leggiamo qualcosa non so scritto direttamente da non so una persona che conosciamo e che c'è vicino anche in quel caso appunto ci accorgiamo che appunto quella fiction viene comunque carpita da un ambito che conosciamo il libro che ho scritto viene in parte e parla in parte delle Filippine nel 1970 quando mi trovavo lì e devo dire che quando ho cominciato a scrivere questo libro mi chiedevo se conoscevo abbastanza quel luogo per poterle scrivere quelle cose quando poi il libro l'ho pubblicato sono tornato lì nelle Filippine per cercare di avere appunto il polso di come veniva ricevuto dai filippini stessi si trattava però di persone che non erano più neppure le stesse che esistevano nel 1970 che quindi appunto la interpretavano quella nazione in maniera diversa da come la interpretavo io a volte l'impressione che abbiamo è che non si deve per forza essere un filippino per poter appunto interpretare il loro linguaggio la loro identità e per poter capire in che maniera funzionano le cose in quella nazione e questo mi ha fatto pensare a qualcosa ad uno scrittore molto famoso che diceva che quando si legge qualcosa e quando si riesce a percepire l'emozione della storia o quasi le paure dei personaggi all'interno di una data novella quello che si percepisce è la percezione vera dello scrittore che ha magari una paura o un'emozione nei confronti di quella data frase che sta affrontando e che si manifesta più che altro attraverso le parole stesse più che tramite ogni altra cosa il titolo del nostro incontro di oggi per la precisione scrivere al tempo pensate che io non riesco a ricordarmi se il titolo esatto era scrivere al tempo della guerra o scrivere al tempo della violenza violenza meglio meglio allora tutti e tre scriva tutti quanti siamo al tempo della violenza e voi avete la fortuna di scrivere al tempo della violenza e scrivere è sicuramente un modo di tentare di capire di organizzare il pensiero di organizzare il senso scrivete al tempo della violenza scrivete in modi molto diversi al tempo della violenza Suad Amiri Abdurrahman Waberi hanno scelto una strada che potremmo definire caratterizzata dallo humor dal paradosso dalla surrealtà appunto questo capovolgimento che Waberi fa ributtandoci in faccia a noi occidentali europei o nordamericani ributtandoci in faccia tutto quello che stiamo facendo agli altri lo capovolge bisognerà capire se funziona il capovolgimento ma lui lo tenta Suad Amiri decisamente racconta la tragedia in corso lavorando su quelle su quelle smagliature che permettono la vita che anche nel pieno della tragedia tuttavia si continua a vivere dunque anche a ridere anche a fare delle altre cose e lo fa in un modo molto particolare in questo ultimo romanzo Murad Murad per esempio il grande capovolgimento il grande trick è che Suad Amiri che è questa signora di questa età di questa classe sociale con questo corpo si traveste da lavorante da manovale ragazzo non tanto ragazzo necessariamente ma palestinese che va dall'altra parte per cercare lavoro sul mercato delle braccia quindi è una situazione paradossale di per sé Romesh Gunes che era invece sceglie un altro percorso che è un percorso più lirico diverso dove la violenza fa irruzione a un certo punto in un modo talmente inaspettato per esempio in questo romanzo Riff la violenza è inaguato per tutto il romanzo ma non si manifesta in senso stretto se non nelle ultime pagine del romanzo e vorrei che Romesh ci raccontasse un episodio di cui ha scritto qualche mese fa su una diatriba che ha avuto con il suo editore inglese proprio per questa irruzione del tema della violenza in un romanzo dove nessuno se la poteva aspettare questa cosa ecco quindi io vorrei che adesso ci parlaste un pochino delle vostre scelte di scrittura in tempo di violenza beh il titolo mi ricorda Marquez e l'amore nel tempo del colera è un ottimo titolo beh c'è molto da dire su questo concetto della violenza io credo che in fondo abbiamo sempre scritto in periodi di violenza se pensiamo al passato pensiamo non so a Dante all'ieri la violenza diventava uno dei modi per poter volgersi dall'una o dall'altra parte per poter parlare della corruzione dei peccati così via la corruzione la frode senza dubbio forse caratterizza più l'epoca presente che non la violenza comunque in ogni caso ritengo che gli scrittori a volte siano molto lontani dalla violenza ad esempio non so Jane Austen che venivano poi recentemente che sono stati recentemente divulgati in un adattamento televisivo e c'è appunto un critico che ha analizzato i suoi libri e che cercava appunto di stabilire il rapporto tra i suoi libri e quella violenza esisteva al suo tempo la violenza della schiavitù e così via ecco tutto questo ci mostra che di fatto il mondo non è cambiato abbiamo sempre scritto in un periodo di violenza per quanto riguarda la mia scrittura il modo in cui la mia violenza viene appunto manifestata in questi libri ecco questo non fa tanto riferimento al RIF ma una delle prime storie che ho scritto che era ambientata nel 1983 nel periodo stesso in cui la stavo scrivendo il 1983 è stato molto importante per la piccola isola dello Sri Lanka perché c'è stata un improvviso e un improvviso sorgere di violenza che ha avuto poi delle ripercussioni fino al momento attuale con quel conflitto tra il Tamil e il governo io però scrivevo una storia che voleva tornare allo Sri Lanka dall'Inghilterra una storia di che parlava delle perdite del desiderio del desiderio dei sogni e che nonostante ciò nonostante questo desiderio non ritorna ma è lo Sri Lanka però prima di finire di terminare quella storia poi le cose sono effettivamente avvenute e io in quanto scrittore non potevo ignorare che mi dovevo confrontare con queste cose e per cui ho deciso di inserire all'interno della storia quella storia è stata pubblicata il mio primo racconto pubblicato in una rivista letteraria e si è appunto parlato molto del fatto appunto dell'elemento della violenza e se questo elemento poteva essere percepito in maniera positiva o meno alcuni dicevano di sì altri di no e così via bene una cosa che ho preso è che forse il mondo vero aveva in qualche modo politicizzato il testo però di fatto poi quel capitolo quell'episodio l'ho mantenuto all'interno del libro perché ritenevo che rendesse la storia più forte anche se per taluna invece la rendeva più deboli da quel momento però tutte le cose che avevo scritto non volendo forse avevano spiegato il perché la ragione d'essere della violenza nel mondo in Reef si parla ad esempio di quel momento nella società nelle quali le cose sono cambiate sono cambiate drammaticamente per via proprio di quella violenza di natura politica che ha avuto luogo nel 1971 e del modo in cui tutto questo ha avuto un impatto sugli individui i libri successivi il libro successivo si chiamava Sandglass ed è stato scritto proprio in un periodo in cui la guerra e la violenza nello Sri Lanka era assorta ad un livello veramente molto alto anche se poi in realtà ho voluto parlare della morte naturale della morte naturale di una donna che moriva della sua anziana età e del significato che questo poteva avere nei libri successivi ho cercato di spiegare l'origine l'origine della violenza e poi ho cercato di anche spiegare dell'eventuale giustificazione della violenza infatti il personaggio principale di un di questi libri era un pacifista una persona che cercava di essere un pacifista ma che poi in realtà non lo era veramente quindi la violenza era giustificata quindi questo forse mostra il rapporto della scrittura e della scrittura in un periodo di violenza beh come ha detto Maria io ho scelto l'ironia ho scelto l'humor per raccontare la mia storia è qualcosa che non posso poi spiegare perché è avvenuto punto e basta se dovessi chiedere quest'oggi qui al pubblico che cosa vuol dire la Palestina l'Israele l'unica immagine che ne riceverei forse è della morte di una persona morta un'esplosione Gaza le persone sotterrate sotto questi edifici distrutti come raccontare una tragedia però con una tragedia non credo sia possibile io ho vissuto in un mondo nel quale appunto quando io racconto alle persone da dove provengo dalla Palestina quasi si sentono in difficoltà e si sentono obbligati a raccontargli quasi una barzelletta per risollevarli perché appunto la vedono come un dramma come un qualcosa collegato alla morte tutti parlano di Gerusalemme della capitale di Arafat dei confini di Sharon ma nessuno poi in fondo parla di 3 milioni e mezzo di persone che cercano di vivere una vita normale quotidiana e io non voglio parlare delle grandi problematiche che sfortunatamente risultano essere così interessanti per i media no io voglio raccontare le cose più stupide più sciocche quelle che riguardano il mio cane che viva a Ramallah e che così per incidente ha ottenuto un passaporto di Gerusalemme e il veterinario mi dice che quel cane deve sempre avere quel passaporto con sé quando si sposta da una parte all'altro e quei 3 milioni e mezzo di palestinesi invece quell'aeroporto non lo potranno mai utilizzare ma il mio cane sì il mio cane sì lo potrà utilizzare quel passaporto per andare dall'altra parte e infatti un giorno decido di andare con il passaporto del mio cane a Gerusalemme e l'ho fatto sono andata lì con quel passaporto e per coloro di voi che non conoscono le cose beh per un palestinese andare a Gerusalemme non è facile c'è bisogno di due permessi uno per voi e uno per la vostra macchina e ci vuole più o meno un mese di battaglie legali con Israele per poterlo ottenere quel permesso e vi assicuro non è facile ottenerlo e quindi un giorno ho preso il mio cane ho preso il passaporto del mio cane e sono andato lì alla frontiera al checkpoint e poi ovviamente dalla targa della mia macchina si rendevano ben conto che venivo dalla Palestina però avevo il mio cane e quindi il soldato israeliano mi ha detto ma lei dove vuole andare io voglio andare a Gerusalemme e mi mostri il permesso e gli ho detto il mio permesso ma io non ce l'ho il permesso beh allora il permesso della sua macchina no il permesso della macchina non ce l'ho ma allora come diamine pensa di poter andare dall'altra parte e io gli ho detto allora vede il mio cane si vede quel passaporto si e vede che dice il passaporto di Gerusalemme si beh io sono la persona che trasporta quel cane che non sa guidare e che non sa andare a Gerusalemme ma ci deve andare vuoi dire qualcosa sull'ultimo su Murad Murad perché lì è una storia nella storia per me questa operazione di travestitismo è quasi più interessante della Palestina non so come dire ok in Murad Murad actually what happens si Murad Murad c'è appunto c'è Murad che un giorno è venuta ad aiutarmi lì nel mio giardino a Ramallah Murad ha 29 anni di età e per 7 anni ha lavorato in Israele e quindi un giorno è venuto lì mi ha aiutato nelle mie attività lì sul giardino e mi ha spiegato che attraversare 35 chilometri a volte può richiedere una notte 25 ore 35 ore con il rischio di essere colpito a morte di non arrivare e così via ma mi ha anche raccontato della sua vita ad Israele nell'altra parte del fatto che era un lavoratore non legale ma che poteva andare alla spiaggia vicino alla casa di mio padre a Jaffa che era poi innamorato con una persona che era dall'altra parte del fatto che veniva pagato solo a singhiozzo e mi raccontava delle storie così interessanti che io in quanto palestinese che vivevo che viveva a Ramallah con una buona con un buon lavoro non avevo nessuna idea di quello che passavano persone come lui per cui ho deciso di accompagnarlo e di vedere che cosa accadeva ovviamente leggevo nel giornale che ogni tanto c'erano delle persone che morivano però ho deciso di farlo e l'unico modo però per accompagnarlo non era andare così con questi vestiti perché mi avrebbero mentalmente scoperto i soldati israeliani mi avrebbero scoperto subito per cui ho deciso di cambiare vestiti di travestirmi da uomo mi sono raccolto i capelli ho messo un cappello e ho accompagnato quest'uomo eravamo in 24 24 lavoratori ovviamente parte della storia parla anche di come mi trattavano questi lavoratori comunque per quei 35 chilometri per 18 ore per andare da Paktikva ho accompagnato questi 24 lavoratori da quel villaggio alla fine però sono arrivati solo in 4 eravamo in 4 su 24 gli altri erano stati arrestati ovviamente c'erano centinaia di altre persone comunque questo mi ha veramente illuminato su quello che avveniva perché voi dovete capire che la Palestina è composta da una popolazione molto giovane il 75% dei palestinesi sono di meno di 25 anni di età per cui Murad rappresentava quel 75% e quelle persone si sono rese conto dalla notte al giorno di non avere più un lavoro un milione di persone che improvvisamente non avevano più reddito non avevano più fame pane per sfamare le loro famiglie e quindi ho accompagnato quei lavoratori ovviamente i soldati israeliani ci hanno fermato ci siamo dovuti nascondere per evitare l'arresto e così via però l'insistenza la forza che avevano nello spostarsi dall'altra parte per trovare lavoro era veramente incredibile io dicevo in continuazione ma no torniamo ma no torniamo non ce la facciamo e loro dicevano no devo continuare come ritorno con che faccia affronto mia moglie mio figlio senza soldi in tasca in che maniera ritongo nel mio villaggio al caffè senza neppure i soldi per poter pagare per una tazzina di caffè e questo mi ha mostrato veramente come funzionavano le cose non so se ho tempo per spiegarlo c'è stato un momento un momento veramente molto interessante nel quale mi sono reso conto che quei 200.000 lavoratori che vivevano in Palestina e lavoravano in Israele erano quel ponte il ponte per la pace nel futuro mi sono chiesta chi è Murad Murad spende trascorre la maggior parte del tempo in Israele parla l'ebraico conosce la società israeliana meglio di me che leggo tantissime riviste tantissimi articoli e sono trattati in maniera veramente pessima ma conoscono molto bene quella società e quindi questo mi ha fatto capire che forse quello potrebbe essere il ponte il ponte per una migliore comprensione quel ponte non è provenuto dall'altro dagli intellettuali no è provenuto dal basso dai lavoratori dai lavoratori che provenivano dalla Palestina la domanda era scrivere in un periodo di violenza beh nel caso di Suad ovviamente la violenza è quotidiana e noi siamo quasi abituati alla violenza dal momento in cui siamo nati io sono nato nel periodo della colonizzazione francese nella quale appunto c'era violenza perché i nazionalisti gibbutiani cercavano di lottare per l'indipendenza i francesi cercavano invece di dividere la popolazione per impedire appunto quel processo siamo quindi molto avvisi alla violenza dopo l'indipendenza però continuiamo a vivere nella violenza in una violenza postcoloniale però con tanti modi per poter privare le persone dai loro bisogni quotidiani di pace e di pane e quindi la violenza mi ha sempre sopraffatto sin dal momento della mia nascita è qualcosa che ho cercato di combattere ovviamente dal punto di vista dei giornali ad esempio Romesh ne parlava dal punto di vista degli editori per quanto riguarda loro vorremmo che noi parlassimo di violenza della violenza delle nazioni più povere che si parli appunto della violenza delle nazioni dalle quali proveniamo e io invece ho cercato di parlarne da un punto di vista diverso ho cercato di non seguire quel percorso ed ecco perché questo libro forse risulta essere uno dei libri più ironici più divertenti che abbia mai scritto perché in quel libro non ho cercato di mostrare la violenza post-coloniale del Djibouti di parlare del razzismo dei conflitti etnici e così via no ho preso la Svizzera ad esempio e ho mostrato che anche lì c'è la violenza che anche lì ci sono quattro gruppi linguistici diversi diverse religioni e così via quindi vedete possiamo utilizzare il linguaggio del giornalismo in altri modi posso spiegare senza dubbio quello che avviene in Africa in poche parole quello che avviene in Rwanda con quel genocidio in dieci parole parlando dei Tutsi e dei vari gruppi etnici e quindi ho cercato invece di utilizzare l'ironia e ho cercato di parlare di queste cose concentrandomi su nazioni come l'Italia come il Belgio come la Svizzera in Italia abbiamo ad esempio tante tribù abbiamo la tribù degli Abruzzesi che è diversa da quella dei Lombardi che è diversa da quella dei Laziali o dei Siciliani e così via e quindi è stato un modo per poter vedere il mondo in maniera diversa non solamente da un punto di vista più leggero ma anche in maniera tale da stimolare le persone ad affrontare queste problematiche più serie leggendo invece un libro che di fatto era una fizione una fiction vorrei leggere poche righe dal libro da romanzo di Abdurrahman Waberi e poi porre anche a Romesh e a Soad una domanda a partire da qui ma molto a che vedere sulla funzione della parola sulla funzione come dire pacificatrice della parola allora salterò e Abdurrahman mi scuserà salterò un pochino l'errore costante che fa la gente di casa nostra siamo negli Stati Uniti d'Africa l'errore costante che fa la gente di casa nostra è di proiettare su qualunque individuo le scelte le attitudini le decisioni e gli orientamenti del nostro governo federale della nostra stampa e delle nostre chiese onnipotenti andiamo salto salto un pochino e bisogna insistere perché ai bambini europei quindi parliamo della parte povera del mondo secondo la struttura narrativa di questo libro bisogna insistere perché ai bambini europei sia data la possibilità di scoprire oltre alla Bibbia e alla Torah le gemme di ogni civiltà di quelle vicine come di quelle lontane e qui è il punto se i racconti rifioriscono se le lingue le parole e le storie tornano a circolare se la gente impara a identificarsi con personaggi nati al di là della frontiera questo sarà sicuramente un passo un primo passo verso la pace un movimento di identificazione di proiezione e di compassione ecco la soluzione l'esatto contrario dell'identità inquieta e inquietante così diffusa al posto del noi tra virgolette strombazzato con fierezza il noi che dondola le spalle alla maniera dei bulli che gonfia i pettorali si farà stare da un altro noi un noi di diffrazione di interazione di traduzione un noi in attesa in ascolto insomma un noi in perpetuo dialogo e un'altra cosa ancora il dialogo privato e silenzioso della lettura diventerà la pietra di paragone il preludio a milioni di dialoghi ad alta voce e alla luce del sole è così che la pace verrà al mondo io lo considero un pezzo bellissimo e non faccio la domanda a Abduramanu Aberi che l'ha scritto questo pezzo bellissimo però mi piacerebbe che Soad e Rumesh ci dicessero come reagiscono a questa cosa vorrei sapere cosa pensate di questa idea della pace dell'identità che cambia non sono pronto mi coglie di sorpresa questa domanda comunque concordo è un bellissimo passo di questo libro come posso rispondere a questa domanda beh risponderò a questa domanda tornando a quello a cui pensavo quando stavo scrivendo l'ultimo libro che si chiama The Match che non è stato ancora tradotto in italiano sfortunatamente ritorno a come mi sentivo mentre scrivo questo libro perché quello che stavo esplorando scrivendo quel libro era l'idea dell'identità e in che modo si crea questa identità e se posso raccontarvi un pochino di cosa parla questo libro forse posso rispondere il personaggio principale è un uomo che si è escluso praticamente da qualsiasi fase della propria vita man mano che cresceva geograficamente ma anche in qualsiasi senso anche dal punto di vista emotivo e poi arrivato alla mezza età cerca di ritrovare un legame diventando quindi consapevole di un bisogno un bisogno di legame di radice che lo ha reso quello che è e questo lo porta all'esplorazione dell'idea secondo cui le persone si vedono in determinato modo cioè in che modo ci si vede ci si considera riferendosi alla popolarità delle squadre ad esempio le squadre di calcio perché si decide di diventare tifosi di una squadra di calcio nella fattispecie lui parlava del cricket che è così popolare come sport in Inghilterra e quindi un'esplorazione di come si crea questa identità in questo caso questo personaggio prosegue con l'esplorazione di un'identità dello Sri Lanka correlata appunto alle squadre di cricket dello Sri Lanka anche nello Sri Lanka il cricket è uno sport popolarissimo e verso la fine del libro c'è un momento in cui c'è un barlume di speranza dove le comunità che magari potrebbero essere le une contro le altre in realtà si riuniscono perché? perché avevano un amore comune che era l'amore per una squadra di cricket in quel caso in particolare quindi quello che voglio farvi capire è che a volte si può fare un crossover si può passare dall'altra parte quindi l'idea di essere trincerato in un'identità che si oppone inevitabilmente ad un'altra è un momento che si può superare e magari lo si è già superato perché non veniamo più identificati soltanto da un unico aspetto che ci caratterizza non si parla più soltanto di una figlia si può essere figlia e madre si può essere padre e figlio si può essere fratello quindi c'è una multidimensionalità e più si vede più si nota questa cosa è meno facile diciamo è più difficile quindi essere gli uni contro gli altri questo è qualcosa che ho cercato di esplorare che forse ho visto anche in questo libro non so se ho lasciato a Suad abbastanza tempo per rispondere Suad ovviamente non era pronta a rispondere a questa domanda che è stata posta quindi mi permetto di intervenire comunque quando ho scritto questo passo che è ovviamente fiction e finzione il noi a cui mi riferisco si riferiva ad un momento specifico della storia e si riferiva nella fattispecie alla Palestina ovvero quando Mohamed Darwish è stato assediato c'è stato questo gruppo di scrittori tra cui Joinka Bretten Brettenbar Zaragat Magoya e così via e questo gruppo di scrittori avevano cercato di utilizzare qualsiasi strumento a loro disposizione riferendosi anche alla forza che la polizia israeliana aveva perpetrato quindi dopo quella visita Nancy Hughes aveva scritto un pezzo parlava del bisogno di stabilire un dialogo in che modo è difficile leggere Darwish allo stesso modo i giovani palestinesi devono leggere la letteratura esistente quindi ho pensato a quelle cose che succedono nella vita reale ed un ultimo commento che vorrei fare che riguarda la scrittura in tempi di violenza negli Stati Uniti ad esempio quando dico a qualcuno che vengo dal Djibouti mi viene risposto ah da dove vengono i pirati beh ho pensato beh adesso è un nuovo sviluppo perché adesso il nostro paese è già stato il paese dei pirati quindi diciamo che adesso non scrivo più in epoca di violenza ma in epoca di piraterie e pirati grazie innanzitutto per il tempo che mi è stato dato per consentirmi di parlare per sempre comunque scherzi a parte vorrei parlare di due cose identità e dialogo a volte spesso in realtà sono interconnesse beh mi piaceva niente stesso in città quando c'era la mia foto sulla copertina non perché sono egocentrica voglio sempre vedere la mia immagine sul libro che pubblico ma perché ci dava l'idea della nostra identità se mi chiedete chi sono beh io vi risponderò a volte sono palestinese a volte sono araba a volte sono mediterranea a volte sono una scrittrice a volte sono un architetto a volte sono una donna chi sono dipende dalle circostanze e più si spinge più viene fuori un'identità ho sempre detto che la mia identità è come questo libro ha 20 pagine ogni pagine è uno strato per così dire della mia identità lo stesso vale per la palestina il mio lavoro come architetto il mio lavoro come scrittrice sono molto simili in termini di identità perché io vedo sempre la palestina come un paese che ha molti molti strati non mi piace quando si dice che la palestina è ebraica non mi piace quando si dice che la palestina è araba non mi piace quando si dice che la palestina è musulmana e non mi piace quando si dice che la palestina è cristiana perché la palestina è fatta di strati greca, bizantina, musulmana, nuovamente greca eccetera eccetera e lo stesso vale per me noi diveniamo una pagina sola musulmani quando Bush vuole attaccare l'Iraq allora in quel caso la nostra identità diventa immediatamente semplice e semplificata e convincere un americano che vive in America, in Minnesota che non ha idea di dove sia Bagdad bisogna convincerli che l'Iraq è il nostro nemico sono arabi, sono musulmani quindi l'identità si riduce ad una pagina e Bush è in grado di gestire solo una pagina era in grado di gestire solo una pagina quindi io ho sempre percepito che il dialogo spesso viene collegato all'idea di noi come diversi dagli altri quando c'era il Vietnam ci avevano detto che le donne vietnamiti erano abituate a perdere un figlio e che non provavano lo stesso sentimento di un'americana che perde un figlio e lo stesso vale per i palestinesi palestinesi che mandavano i figli in strada per essere uccisi ed erano loro le responsabili delle loro morti e non i soldati israeliani quindi tutti pensavano di conoscerci la cultura è bella perché noi abbiamo cucine diverse abbiamo tradizioni culinarie diverse non abbiamo gli spaghetti buoni in Palestina e questo ve lo posso dire ma nessuno mi può convincere che quando c'è una morte in una famiglia in Sri Lanka o a Ferraro o a Ramallah i sentimenti siano diversi non è così grazie io ho un'ultima minuscola domanda che è più una curiosità che altro e poi sta a voi e abbiamo tempo fino alle 2 meno 20 più o meno anche 2 meno un quarto io ho notato con assoluta curiosità questa coincidenza l'ultimo libro di Suad ha in epigrafe una frase di Richard Kapuscinski fantastico grande reporter polacco molto amato in Italia lo conosciamo tutti un maestro assoluto e che frase cita in epigrafe al suo ultimo romanzo Suad? questa non sono mai stato capace di parlare di gente con la quale non ho condiviso almeno una parte di quello che essa stessa sta vivendo da uno degli ultimi libri pubblicati in Italia ancora un giorno che peraltro era il primo di Kapuscinski e sempre in epigrafia al suo romanzo Suad continua perciò ho accompagnato Murat e i suoi amici in un viaggio di 18 ore quindi la mia domanda è a Suad perché ha scelto proprio Kapuscinski e la cosa curiosissima è che nel romanzo di Waberi nell'inversione mi pare di capire che sia lui a pagina 79 c'è un'esilarante pagina un'esilarante pagina in cui si parla di questo ma non ve la leggo questa ve la leggete da soli in cui comunque si capisce che questo ribaltamento riguarda la figura di un cronista che va dall'altra parte e studia l'Africa da bianco polacco eccetera eccetera allora vorrevo semplicemente e naturalmente la domanda non riguarda direttamente Romesh ma se una figura come quella di Richard Kapuscinski quindi appunto fa da maestro anche a voi e poi io chiudo la io non parlo più prego quando si vive in un paese in qualsiasi paese non significa che si conosca tutto quanto accade nel proprio paese essere italiani non significa che si sa tutto ciò che accade in Italia che si sia informati su tutto in realtà spesso è difficile anche per me capire cosa vivevano questi lavoratori che dovevano affrontare questo questo viaggio noi di sinistra abbiamo sempre detto che rappresentavamo i lavoratori la classe lavoratrice c'era una grande dicotomia tra quello che diceva la nostra testa e la realtà volevamo dire che rappresentavamo i più poveri ma in realtà mi sono resa conto che non potevo scrivere di questi lavoratori non avrei potuto scrivere di questi lavoratori a meno che non fossi andata con loro quindi nel libro ho voluto essere sicura di avere un occhio esterno per così dire perché io non sono un uomo non faccio parte della classe operaia ovviamente soffro dell'occupazione ma ad un livello completamente diverso rispetto a loro ho voluto avere questo occhio che guardava questa storia dall'esterno dato che un lavoratore non avrebbe mai avuto modo di dar voce alle proprie esperienze l'unico modo per farlo era vivere con loro queste 18 ore questo viaggio ma alla fine alla fine della fiera se vedete questa copertina c'è solo Murad sono stata con loro per 18 ore ma l'ultima frase del mio libro non soltanto esprime la mia gratitudine nei confronti di Murad ma chiedo anche il suo perdono perché lui continuerà a essere solo in quel mondo cercando di rendere giustificabile e dare una logica questa realtà che non ha logica trovare giustizia e non ingiustizia e continuerà quindi a lottare da solo senza me che cercherò di raccontare la sua storia ecco perché lì chiedo scusa bene allora tornando alla Kapuscchi l'ho incontrato due volte è una persona splendida ed è collegato una tradizione di scrittori molto importanti come Omero o Marco Polo o D.H. Lawrence e così via è un ottimo scrittore una persona che proprio in quanto polacca è stato in grado di vedere la società africana in maniera diversa e infatti quelle due volte in cui l'ho incontrato abbiamo parlato di Ugadin e pochi pochissimi giornalisti sanno di che cosa avveniva ad Ugadin e invece lui sapeva esattamente che cosa avveniva lì quindi è una persona che ha letto molto di quello che avviene lì è una persona quindi che mi ha ispirato molto e che rispetto e per la quale nutro una grandissima ammirazione bene Kapuscinski ed io questa è la domanda che mi ha fatto beh l'ho incontrato anche io però ecco vediamo un po' gli elementi in comune siamo stati pubblicati abbiamo pubblicati in in comune in passato e ha scritto un libro sul mondo del calcio che era anche interessante bene il narratore il narratore l'eroe del mio libro questo è il libro tra l'altro che non è più disponibile della Feltrinelli ma che spero che presto venga resa di nuovo disponibile ecco in questo caso il Reef è una giovane uomo che racconta proprio della storia dal suo punto di vista nella quale lui appunto parla del modo in cui si impone del modo in cui impara la lingua in cui riesce a raccontare la sua storia riesce ad affrancarsi da servo a cuoco a diventare artista della sua propria vita del modo in cui riesce ad imparare a sopravvivere in un mondo in un mondo moderno in un modo nel quale le persone per le quali lavora le quali è assoggettato non sanno vivere e questo ci riporta a quel concetto di cui parlavamo prima del fatto che la condivisione richiede un certo grado di empatia un'empatia che dobbiamo sempre cercare di identificare di trovare in quanto scrittori dei microfoni se avete delle domande per tutti e tre o per uno di loro prego come nelle linee aeree cominciamo prima dalla prima fila e poi passiamo alle altre allora la prima domanda è quando andrà in Sri Lanka allora una domanda per Suad una curiosità beh vorrei chiederle conosce Ian Weisman un architetto che lavora in Palestina e ho scritto proprio un libro che ha scritto questa persona che parla dell'occupazione e si chiama Hollow Land e questo è il titolo del libro tra l'altro una persona che è venuta lì a Mantua al festival delle letterature nella quale e durante il quale ha spiegato appunto che spera che le cose possano cambiare nel futuro e cerca di cambiarle queste cose attraverso il suo lavoro il lavoro cercando di promuovere questo processo di decolonizzazione della Palestina attraverso l'architettura l'ambito del quale si occupa ecco io stessa sono una studentessa di architettura per cui vorrei chiederle se anche lei ritiene o spera che nel futuro la Palestina possa ritornare ad uno stato di libertà e sì ovviamente ovviamente diventerà libera sì conosco Ial e conosco molto bene il suo lavoro e gli israeliani come lui non sono non sono molti per cui conosco molto bene il loro lavoro lavoro molto importante ha fatto del lavoro molto interessante sul processo di decolonizzazione della Palestina della cosiddetta terra sacra ma qui c'è un gioco di parole perché sacro in inglese vuol dire è molto simile la parola buco e quindi a questa specie di grovire di cui parlavamo prima bene ho speranza se non avessi speranza non sarei qui ovviamente nessuno avrebbe mai sperato che Sudafrica sarebbe diventata libera che non ci fosse più la segregazione è un processo ovviamente in itinere ma comunque sono riusciti a risolverlo per cui ecco parlando del conflitto dell'Israele palestinese non riguarda tanto la cultura la religione la storia o i prefetti ma riguarda semplicemente la terra solamente quella la cosa la roba se gli israeliani un giorno smettono di prendere il territorio palestinese allora in quel momento sapremo che vogliono seguire il percorso della pace ma sappiamo che ci siano molto israeliani che sono contro l'occupazione e Wiseman è appunto una di queste persone ed è per questo che Sharon ha costruito quel muro ed è per questo che sono stati costruiti per accertarsi che i palestinesi e gli israeliani non abbiano quei ponti o che quantomeno quelle persone che vogliono averli quei ponti non riescano a vederli all'orizzonte potete farvele anche tra di voi se volete dove c'è uno ok la volevo tornare un po' al titolo di questo incontro che è in un tempo di violenza e mi domando se leggendo non soltanto leggendo libri ma leggendo giornali insomma comunque i media tendono a raccontare a descrivere la realtà violenta o un mondo violento attraverso parole violente scegliendo una descrizione violenta sia nella forma nella scelta delle parole e nella forma del racconto allora mi domando se è possibile un po' forse in parte avete risposto ma forse vorrei concentrare di più l'attenzione sulla forma della vostra scrittura in parte alcuni libri che io ho letto vostri tendono a non farlo e mi chiedo se è possibile raccontare una realtà violenta attraverso una forma meno violenta e se è possibile usare parole che siano violente per raccontare una realtà violenta un mondo violento e quanto sia efficace questa diciamo scelta se c'è una scelta se lei chiedeva se è possibile scrivere o parlare di violenza senza utilizzare appunto il linguaggio della violenza e io credo che sì sia possibile ci sono pochissimi vincoli degli scrittori però uno dei pochi è proprio la cura con la quale fa uso della lingua e io credo molto in quell'idea quasi romantica dei poeti del romanticismo nei quali appunto si è responsabili anche della rigenerazione della lingua e dell'utilizzo della lingua per mantenerci umani quindi credo sì che sia possibile sono d'accordo con lei uno dei processi seguiti da questa epoca violenta è proprio che il linguaggio è sempre più brutale e lei diceva appunto che a volte bisogna semplificare le identità e che a volte questa identità viene ridotta ad una pagina ad una parola come abbiamo detto prima e che a volte questo viene fatto perché semplifica le cose perché ci consente di fare delle cose che altrimenti non potremo fare ecco anche quello vuol dire fare della violenza e noi sappiamo che a partire dalla schiavitù e da tutti gli altri problemi dobbiamo prima di tutto cambiare la lingua cambiare la percezione il modo in cui ci rapportiamo gli uni agli altri ecco in quanto però lettore io ritengo che stiamo in parte resistendo questo linguaggio che ci viene proposto io ritengo che non sia solamente possibile ma che sia anche necessario perché quando lo scrittore l'artista non deve imitare infatti il linguaggio della stampa no non deve aggiungere violenza alla violenza e anzi deve in parte ridurla deve togliere la violenza da quella che già esiste nel linguaggio non deve essere offoscato dal linguaggio dei media da questo linguaggio della semplificazione e della nullificazione e vi darò un esempio che riguarda non tanto la scrittura ma che mi viene in mente in questo momento ma forse Romesh non è d'accordo ma che riguarda J.M. Cozzi che ha scritto molte narrative con un linguaggio tenue che però parlava di una società molto violenta quella dell'apartheid in Sudafrica se avete letto in attesa dei barbarians dei barbari e ecco l'umanità il potere di quella lingua erano molto più forti della situazione violenta della quale parlavano ecco questa narrativa soft di Cozzi alla fine risultava avere un'influenza maggiore nelle menti dei lettori rispetto invece a quel linguaggio più forte di altri narratori ecco nel corso degli ultimi anni ho cercato di parlare del genocidio in Ruanda e una delle domande ci siamo chiesti era proprio in che maniera parlare di quelle cose parlare utilizzando quelle sulla soglia di quello stesso linguaggio oppure al di sotto di quel linguaggio e le opinioni non erano unanime io ritenevo che invece si dovesse scrivere in una inglese più semplice al di sotto di quella soglia quasi mormorando quasi al di sotto di quella violenza perché altrimenti risultavo o finivo per l'essere quasi quasi catturato da quella violenza e dal non poterne più uscire io credo sì che dobbiamo assolutamente non seguirlo quel paradigma perché uno dei grandi problemi di questo mondo è che veniamo messi in un paradigma dal quale spesso non riusciamo ad uscire questo da parte dei politici e invece no dobbiamo decostruire queste sovrastrutture a volte molto spesso nel corso degli ultimi dieci cinque anni sono stata invitata a dei dialoghi tra cristiani e musulmani e ho deciso di non prendervi parte oppure tra ebrei e musulmani e così via o a conferenze che parlavano non so del terrorismo come argomento principale anche in quel caso ho deciso di non andarci una delle cose che mi è piaciuta tanto dello speech di Obama a Cairo è quella è del fatto che non ha utilizzato alcune parole dobbiamo tutti lavorare per eliminare quei vocabolari quelli vocaboli che hanno un significato quasi criminale quindi è molto importante non seguire la violenza con la violenza io ritengo che uno dei modi migliori per poterlo fare è raccontare una storia e poi far sì che sia il lettore che la interpreti e io ritengo che i lettori siano sufficientemente intelligenti per poter capire dove va a parare il caso di Murad e Murad quando attraversiamo il muro e andiamo dall'altra parte verso l'Israele la terra natia dei miei genitori mi siedo in un parco e il parco il parco in genere evoca questa idea del verde dell'acqua della bellezza se invece ne parlate ad un palestinese gli vengono i brividi perché sanno bene che spesso è un villaggio palestinese che è stato improvvisamente trasformato in un parco e a volte ci sono dei parchi che per nome corrispondono proprio ai villaggi palestinesi che esistevano in precedenza gli israeliani hanno demolito tantissimi villaggi palestinesi se vi dovessi dire non so quanti ne hanno distrutti in numeri forse non ve li ricordereste neppure una volta usciti da questa sala e per cui cerco di evocarle queste cose con delle immagini con le immagini dei contadini che mietono il grano con le immagini di capre e così via perché queste immagini più facilmente rimangono con voi non utilizzo mai la parola distruggere non uso mai la parola di questo tipo ma è il lettore che a partire da queste immagini così splendide è in grado di percepire questa realtà dobbiamo quindi cercare di non cadere in quel trabocchetto che molto spesso ci predispongono chiedo scusa agli altri due autori che conosco solo questa mattina mentre ho letto tutti i libri di Swart sono interessata alla questione israelo-palestinese e tra l'altro è forse l'unica autrice palestinese al quale faccio riferimento quando cerco una comparazione con la letteratura israeliana e ci sono dei passaggi anche dei confronti molto interessanti non so tra libri di Grossman che racconta il paesaggio israeliano insieme alla sofferenza di chi teme per la vita del figlio come poi tragicamente è accaduto ma anche passi di Sharon e mia suocera in cui vengono evocate ecco all'interno di un andamento che è ironico e brillante però ci sono questi momenti molto tragici che in effetti confermo quello che stava dicendo prima rimangono nel lettore e in modo particolare mi colpisce anche se in questa forma più leggera cioè perlomeno una forma che è così si coglie la violenza contro il paesaggio e la violenza anche contro la storia penso al bombardamento di Nablus o alla perdita della fabbrica dei saponi e mi chiedo se c'è se è stata ricostruita ma penso anche nell'ultimo libro si parla molto degli arancetti degli ulivi cioè quindi anche è sconvolto il paesaggio diciamo e questo è cioè c'è una violenza che è una violenza anche contro le memorie perché poi l'ambiente e la storia diciamo i fatti sono proprio anche la memoria delle persone penso che non sia casuale la domanda poi andava verso un approfondimento in questo senso grazie molto per il suo intervento Barack non Barack Obama Yahud Barack era a Londra una settimana fa e dei giudici israeliani gli hanno chiesto di ritornare immediatamente ad Israele perché potrebbe essere potrebbe essere o dover comparire in giudizio come appunto criminale di guerra ecco il fare questa cosa è un qualcosa contro natura gli amanti della natura gli amanti degli animali dovrebbero portare l'Israele di fronte ad un tribunale internazionale per i danni che hanno fatto in Palestina trattino Israele e io spesso dico agli israeliani che non credo per nulla che possano amare la terra nella quale vivono perché altrimenti non l'avrebbero trattata nel modo in cui l'hanno trattata e nel mio libro infatti dedico un intero capitolo proprio per parlare degli animali degli animali dal punto di vista degli animali e mi chiedo appunto in che maniera percepisce queste cose una gazzella anzi avrei voluto scrivere tutto quanto il mio libro dal punto di vista di un animale o di una magari non so di un olivo ho un forte collegamento con la natura con gli animali in quanto architetto ovviamente trovo molto disturbante vivere in dei luoghi che vengono brutalizzati su base quotidiana l'israele ha la più grande destinata di strade per persone però nei territori occupati la cosa è molto diversa ogni giorno c'è una strada che sostituisce del verde magari non so a tre o quattro corsie che distruggono non solamente la nostra memoria e la nostra storia ma che distruggono anche il luogo il luogo stesso una delle parti più difficili che ho dovuto affrontare nel mio libro è stato proprio trovarmi dall'altro lato nel rendermi conto di come la Palestina che per centinaia e centinaia di anni era parte del Medio Oriente ed aveva anche le caratteristiche delle città storiche di quel lato l'aveva improvvisamente perso e lo vediamo anche dagli alberi c'è un olivo che ha delle olive che non vengono più raccolte da nessuno a volte ci sono dei palestinesi che piangono quando viene tagliato un olivo per me appunto il mio rapporto con quella terra con qualsiasi terra anche con l'Italia perché è così bella proprio per via del suo paesaggio così bello riguarda proprio l'umanità l'umanità nella natura è una delle cose più problematiche quando si ha un conflitto è il fatto che i vostri diritti vengono umiliati costantemente e nonostante ciò dovete insistere sul fatto che sì avete dei valori vi basate su dei valori nonostante quel conflitto vi ringraziamo moltissimo ringraziamo gli amici di Internazionale che hanno creato questa zona che va un po' controcorrente rispetto ai media arrivederci grazie grazie